a questo caldo pomeriggio del mese di maggio. Appena arrivati a tutti per questo secondo incontro, terzo incontro, come vogliamo, che vuole essere una formazione per capire i paesi da cui proveniamo, le culture da cui proveniamo, conoscerle, farle conoscere e per capire il mondo in cui siamo attualmente. In Italia non va via a coma. Oggi parleremo di salute, di sanità, di come funziona la salute nei nostri paesi di provenienza e come funziona nel posto in cui viviamo attualmente, che appunto è coma. In Italia, questo è il turno in Italia che vi presento ogni settembre. E questo è un informazione per capire i diversi culturali. Quindi oggi, siamo a concentrare su quanto riguarda il sistema di care. Quindi voglio esprimere come funziona il sistema di care in Italia e anche in diversi paesi dove le persone vengono. Magari ci presentiamo per nazionalità di provincia, così ci si aiuta anche per organizzare i lavori di gruppo. Potremmo potremmo fare una piccola presentazione. In Nigeria. In Nigeria. 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 Poi? Munia. Munia con Akri. Senegal. Senegal. Kodiwa. Gambia. Albania. Gambia. Gambia. Pachistan. Salvatore. Italia. C'è anche Albania. La Argentina. E in più? Sì. Allora, per la lingua. Francesca. Francesca. Sì. 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 Se capiamo, c'è bisogno di tradurlo in francese? In inglese di sicuro. Sì. Sì. Sì.